Vi svelo un segreto, c'è solo un altro motivo per cui mi spoglierei. La mia città, in attesa di trovare un finanziatore, Linda Santaguida, bolognese doc, mio padre compra il Carlino tutti i giorni, ha detto sì alla rivista Maxim e a FX, il canale 113 di Sky, per un calendario sensuale ma anche ironico, 12 mesi reinterpretando le grandi dive del cinema italiano, come spiega lei stessa. Mi avevano proposto molti altri calendari ma senza senso, in questo caso era impossibile resistere, io truccata come le icone sexy italiane, Ted Pigefeneca, Sofia Loren, bella ma con un cuore, il mio ricavato andrà interamente alla Onlus Neuroton che ha come principale obiettivo la ricerca sulle cellule staminali e cerebrali per la cura delle malattie neurodegenerative.